Venerdì 28 ottobre, un giovane nisseno di 22 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Adesso è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Canizzaro di Catania. Con noi lo zio del giovane che vuole spiegarci cosa è accaduto. Mio nipote da diversi anni viveva un disagio, un disagio che l'ha portato a questo estremo gesto. C'erano stati dei segnali però, dei segnali importanti. Mia sorella cercando di chiedere aiuto alle istituzioni, proprio perché era diventato molto violento, instabile, incontrollabile, aveva richiesto il TSO, anche tramite i medici che lo curavano. E' da dal 2 settembre che mio nipote era in TSO per alcuni giorni, in questi giorni era scappato, rifiutava comunque la cura farmacologica, bisognava intervenire anche tramite la questura per fargli prendere le medicine. Nonostante tutti questi avvisi, nonostante tutti questi segnali di pericolo che mio nipote mandava per se stesso, ma anche per le persone che gli stavano incontro o che poteva incrociare lungo il suo cammino, dal 2 settembre siamo arrivati fino al 28 di ottobre in cui ha fatto questo insano gesto di cospaggiare il proprio corpo e darsi fuoco. Purtroppo le istituzioni hanno tardato a ricoverarlo presso una comunità. La sorella aveva già firmato tutte le carte, aveva richiesto la comunità? Mia sorella ha firmato tutti i documenti necessari per il ricovero, per farlo inserire in una comunità, in un luogo in cui in maniera forzata veniva costretta a prendere dei farmaci che lui rifiutava, rifiutava i farmaci, rifiutava di stare in quel luogo, scappava. L'unico modo per assicurargli una terapia adatta alla sua situazione era quello di costringerlo. costringerlo a prendere delle medicine che gli avrebbero fatto bene, che lo avrebbero, secondo i medici, ricondotto verso una vita normale. Adesso come sta? Mio nipote ha ustioni per il 70% del corpo. I medici dicono che è ancora in pericolo di vita. Un'infezione può arrivare da un momento all'altro stroncando la sua giovane vita. Lei ha voluto rilasciare questa intervista per dire che le istituzioni devono stare più vicini alle famiglie nei casi come quello di suo nipote. Dico che le istituzioni sapevano che mio nipote rappresentava un pericolo per se stesso e nei confronti degli altri. Oggi è la mia famiglia che sta piangendo. Poteva andare anche peggio ed esserci qualche altra famiglia, due famiglie, tre famiglie a piangere. Perché mio nipote non era in grado di comprendere i propri gesti. Sapendo tutto ciò, sapendo che c'erano questi segnali, sapendo che era un pericolo, comunicato da specialisti, quali i medici che lo tenevano in cura, comunicato dalla questura, con tanto di documenti di persone che ormai lo seguivano in questo tipo di problemi che lui aveva, non dico giornalmente, ma settimanalmente, forse le istituzioni dovevano intervenire in maniera più celere per evitare che accadesse tutto ciò, che accadesse il peggio. Purtroppo così non è stato.